Sta facendo gridare allo scandalo la costruzione della barriera Massi tra la spiaggia di Acqua Pesa e lo scoglio della Regina. Nelle intenzioni dovrebbe servire per contrastare l'erosione costiera del litorale di Guardia Piemontese e Acqua Pesa, ma per molti è già diventato uno scempio da fermare. Un vero SOS è già partito dalle pagine di Facebook, ad averlo firmato il coordinatore del movimento ambientalista dell'Alto Tirreno, Francesco Cirillo, che ci ha concesso anche le immagini che state vedendo. Come potete constatare, la pista collega completamente la spiaggia allo scoglio. Ecco com'era la zona prima dell'avvio dei lavori. La foto è una delle tante che si può trovare su internet e che serve per pubblicizzare nel mondo la riviera dei Cedri e la Calabria. Tutto ancora da vagliare l'iter burocratico che ha portato alla concessione dei lavori. Secondo Cirillo, l'ok è partito dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria, mentre mancherebbe quello del Parco Marino Riviera dei Cedri, nel quale lo scoglio ricade. Non si capisce, conclude Civillo, se ci sia stato anche un ok dall'assessorato all'ambiente della provincia di Cosenza. Abbiamo acquisito la documentazione e stiamo analizzando tutto dal punto di vista istituzionale, ha detto il presidente del Parco Marino Ciriaco Astorino. Silenzio, invece, sulle dichiarazioni dell'ex presidente dell'ente Parco, Palmiro Manco, che ha giudicato l'opera un tentativo di distruggere l'autorità del Parco Marino Riviera dei Cedri. Tempo regge, invece, l'assessore all'ambiente della provincia di Cosenza, Giuseppe Aieta. Visiterò i luoghi e poi potrò dire qualcosa, ha dichiarato. Il mio assessorato non è la conoscenza dei lavori. Grazie a tutti.